Vieni al gas Ma io non ho capito dov'era il problema Io non ho capito dov'era il problema Gianluca Possiamo salire a noi? Potete chiedere a Francesco col Toyota Francesco Io sto qui fermo aspettando il tuo K Che mi ha detto che non è libero Ok, come salire siamo liberi Ho portato sul pacello Qua Dovete seguire la sequenza Una volta finita la discesa La macchina aspetta quella dietro Poi fa la salita e aspetta quella dietro Il vero quasi Che si deve parlare Non c'est un vero Mi non iesa Chiara Non c'è Non c'è No Non c'è Trazione Non c'è Se calzare Non c'è Sì, proprio alla destra, dimmi. Questa è tra un po' bella, è salita, mamma mia. Fabio, sono il canto, presenti? Sempre la trova, perché è il tuo fratello, che l'ha parcheggiata è lì dietro. Che bello, accendite, portavo avanti. Sono in palito per quella macchina, io. Sì, vai, Gianlu, fino alla fine, sto mezz'ottista qua, dal passetto.